Oggi è la giornata della... è la domenica a piedi, quindi ti chiedo come sei arrivato qui al Museo del Novecento? Con i mezzi. Con il tram? Con la metro. Quindi diciamo, vorrei sapere anche un po' un tuo parere su questo binomio di una città che non va con la macchina, quindi con il mezzo tradizionale, ma insomma sfrutta la natura, l'aria aperta e la usa anche per la cultura, per vedere i musei. E' importante, probabilmente magari legato, si potrebbero fare degli accordi tra i mezzi pubblici e gli enti museali o culturali, se ti presenti con il biglietto della metropolitana è uno sconto sul biglietto dell'entrata del museo, credo che. Sì, tu hai deciso di fare questa presentazione qui davanti a quest'opera di Fontana, ecco non ti chiedo di fare la lezione che hai appena fatto, però ci spieghi perché ami tanto quest'opera? Appunto, come dicevo prima e adesso lo ripeto volentieri, mi riporta a capire tutti i ragionamenti che ha fatto Fontana per arrivare ai trattati sull'arte spaziale, quindi sui suoi concetti spaziali. E' interessante questo primo step sulla tridimensionalità prima di passare alla quarta dimensione, anche perché mi sembra un artista giovane che sta cercando di creare delle cose prima dentro di sé e poi di condividerle con gli altri. E quindi è una cosa che la sento vicina, anche perché capisco la difficoltà anche per lui di riuscire ad arrivare a fare degli step molto grandi, anche perché comunque lui è riuscito studiando, confrontandosi. E questa è un'opera che all'inizio non conoscevo, quindi mi ha stupito, poi mi sono informato e ho studiato un po'. Senti, tu hai parlato anche della differenza tra lo spazio interno nel quale creare l'opera e lo spazio esterno, tu che sei un writer sei più abituato agli spazi esterni, quindi diciamo un po' cerchi non di avere tanti musei in città, ma di far sì che la città sia un museo a cielo aperto. Sì, ma questo appunto è un po' la ricerca che ho portato avanti in questi anni, magari con delle difficoltà da parte delle istituzioni, ma continuando a farlo perché credo in questa cosa fortemente, ma come secondo me credevano, cioè creare arte in mezzo alla strada è una cosa democratica. Penso che quando si parla di arte elitaria, nel senso, i luci o fontane migliori sono le case della gente che se lo può permettere, ma non credo che lui volesse in questa maniera qua. Purtroppo è morto poi nel 68 e quindi non ha potuto bloccare questa cosa, ma secondo me un'arte più condivisa, approvo moltissimo, quando sono stato negli Stati Uniti al Metropolita, anche c'erano delle sale di persone che donavano la propria collezione per il museo, quindi la donavano per tutti quanti. Logicamente se una persona che magari il comune di Milano la conosce molto bene ha dei canaletto in casa, probabilmente li dovrà mettere a disposizione di tutti quanti, la posta di tenersi nel salotto. Vabbè, ma ci siamo levati il problema. Senti, Sgarbi facendo un paragone importante ti ha definito il nuovo Giotto, ma tu credi che in Italia appunto ci sia bisogno di un nuovo rinascimento? Ma sicuramente, vabbè, l'affermazione di Sgarbi è così provocatoria, si è capito. Poi io quella volta lì gli chiesi come mai mi aveva definito così e lui non sapeva rispondere, mi aveva detto boh, non lo so, a quel momento ho risposto così, forse perché lui è più vicino all'arte antica, anche se comunque si parla di moderno, innovazione, ero lusingato, anche perché comunque Giotto è una persona che ha aperto le strade all'arte moderna in generale. Credo che un rinascimento ci sia inevitabilmente, stiamo passando un momento buio e subito dopo, non so, il sole dopo la tempesta per forza e quindi quando sento, non so, degli amici con cui vado a disegnare, ah è un momento difficile, no, è proprio questo il momento migliore e qua che bisogna tirar fuori, cioè abbiamo bisogno di momenti, è come quando litigo con la mia fidanzata, nel senso apprezzo di più quando invece stiamo bene, per forza. Quindi momenti negativi servono per apprezzare quelle positive e viceversa. Senti, proprio a questo proposito, cioè si evince una tua sensibilità nei confronti, insomma, del posto in cui vivi e anche dei problemi che ci sono da affrontare e quindi, insomma, io ti chiedo anche qual è il tuo rapporto con la città dal momento in cui tu la usi per esprimere la tua arte. Allora, il mio rapporto con la città è fondamentale e la mia arte, nel senso, la mia espressione, poi di arte se ne parlerà quando sono su un piedistallo, così. Però è fondamentale questa cosa, tant'è vero che nel senso adesso da sei mesi mi sono trasferito anche in Via Padova che è una zona considerata, non so, pericolosa. In realtà è bellissima, cioè è una zona molto viva, una zona che poteva essere viva quanto Brera negli anni 60 e adesso invece non è più così perché gli affitti sono aumentati e quindi l'altro giorno ero lì a Brera e c'era una signora che si lamentava, faceva la guerra, questi poveracci che vendono le borse abusive, che va bene, capisco tutto quanto, però una guerra del genere. Mentre magari io vivo in un posto dove queste cose esistono, ma nello stesso tempo c'è anche molto più rispetto delle persone, non so, la città. Via Padova è il nuovo polo artistico della città, dopo che Brera lo è stato per tanti anni. Sì, 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 sì. Poi c'è un melting pot di culture, è importante, se hai la voglia e il tempo di fermarti a parlare con qualcuno ti può spiegare cosa avviene nel suo paese. A un certo punto volevo andare all'estero, ho detto, vabbè, sto a Milano, ma comunque è come stare all'estero, mi trasferisco in Via Padova. Senti, per chiudere, siamo nella domenica a Spasso, adesso dove te ne vai a Spasso? Ma adesso c'è un'iniziativa al Franco Parenti e pensavo di andare là. Prima vado a mangiarmi qualcosa e poi vado là. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Ciao.